Buonasera a tutti e bentornati al TGDACI Milan Inside. Ci sono news per quanto riguarda l'infortunio di Chokweze. Il nigeriano aveva riportato un problema muscolare con la sua nazionale contro la Libia, infatti è tornato prima in Italia per fare dei controlli. Il secondo Sky però sarà regolarmente disponibile per Fonseca nella partita di sabato alle 18 contro l'Udinese. E dunque l'infortunio è meno grave del previsto. Meno male. Togliendo i calciatori ancora impegnati con le proprie nazionali, oggi a Milanello si è tenuto un allenamento insieme ai ragazzi del Milan Futuro. In quel di Milanello abbiamo visto rientrare anche Matteo Gabbia, oltre ovviamente a Pulisic, già tornato qualche giorno fa. Apriamo un attimo la parentesi infortunati e mi sto riferendo a Calabria, Loftusic e Sportiello. Dei tre, Loftusic sembra il prossimo a rientrare, infatti per metà si è allenato in campo e per metà si è allenato in palestra, a differenza di Calabria che prosegue il suo allenamento personalizzato. Per quanto riguarda la prossima sfida contro l'Udinese, pare che Fonseca lascerà in panchina sia Tomori che Abram. Vedremo gli sviluppi e le scelte di Mr. Fonseca nei prossimi giorni, motivo per cui voi dovete continuare a seguirci su tutti quanti i nostri social per non perdere neanche una notizia.